Gli Oscar del calcio dilettantistico calabrese, premio Stadio Radio, seconda edizione. Clicca su stadioradio.it e partecipa al nostro sondaggio. Vota il tuo preferito, il migliore per ogni reparto, il miglior allenatore, il miglior arbitro, il miglior attaccante, il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista. Il miglior under, premio Stadio Radio, seconda edizione. A fine campionato decreteremo il vincitore. Clicca e vota su www.stadioradio.it Questa è un armo giù serio, eh? Clicca e vota su www.stadioradio.it All'ottavo era. Posizione, oh! Clicca e vota su www.stadioradio.it Calcio di rigore, batte il donato, tiro, gol! 2 a 1 per la Palmese con Tina Benavoli che si gela dopo che aveva assaporato questo pareggio nell'esima occasione. Quindi con due sole azioni, esattamente due diri liberi da parte del... GOOOOOOOL! 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 G throat! E' merda, si promesse col Giulio, si! Calcio di rigore, calcio di rigore, scattare, tira di Di Maggio, parata di D'Agostino, calcio di rigore, parato con un grande colpo di Reni da parte dell'estremo difensore ospite, grossa la sua prestazione finora, ancora la razione continua, Candido mette al centro, Libra come vuoi la difesa e ora è falduto che Libra è nella zona dove c'è Dorato contro due uomini, Dorato però viene superato da Cassola e quindi l'azione svanisce. Lino mette al centro, il pallone viene liberato come qua da Marengo e ora è subito Di Maggio.